La signora sentiva sintomi che diceva che non ci vedeva più. Una figliola era quasi svenuta, era incinta. I bambini stanno più svenuti che è normale così. 13 persone intossicate da monossido di carbonio. Tra queste anche bambini e due donne in stato interessante. L'allarme è scattato attorno alle 19.30 in località Borro, dalle Cave, nella comune di Terra Nuova, Bracciolini, Valdarno, Aretino. La signora si pensava di fare una cosa buona, ha acceso delle abbracce fuori e l'ha portata nei bidoni di ferro dentro casa. Purtroppo non lo sapeva che gli poteva far male a tutti. All'improvviso, dopo un po' di tempo, si sono sentiti tutti male. Hanno dato l'allarme, si è chiamata l'ambulanza e si è visto tutto quello che è successo dopo. Un momento di festa che ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi per una famiglia arrivata dalla Campania per trascorrere qualche giorno in un casolare poco distante da Podere Rota. In 13, quattro bambini di età compresa tra i due e i dieci anni, sei donne, di cui due è stato interessante e tre uomini, sono rimasti intossicati. A lanciare l'allarme è stata una delle donne incinta. La macchina dei soccorsi si è così attivata pochi minuti dopo. È chiamata aiuta, aiuta. Se non si sente bene, la figlia non si sente bene. Questo abbiamo sentito. E poi non ho sentito più nulla, non ci ho capito più nulla perché mi sono visto dieci ambulanze addosso, carabinieri, vigili del fuoco, non si capiva più nulla. Le due donne in dolciattese e due bambini sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Fiorentino di Careggi per essere trattati con l'ossigeno in camera iperbarica. Mamma, papà e bambino sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponte Niccheri in codice giallo. Tutti gli altri, in analoghe condizioni, sono stati curati invece al pronto soccorso della gruccia. Una disavventura che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi. nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze per la propria salute.